Fra gli atti del Tribunale del Torrone, il Tribunale Penale, attivo Bologna dalla metà del Cinquecento fino alla fine del Settecento, è conservato un processo, un processo molto importante e molto studiato. Si tratta del processo per il presunto avvelenamento di Elisabetta Sirani, pittrice molto famosa, figlia di un pittore, Giovanni Andrea Sirani. Il processo fu celebrato fra il 1665 e il 1666 ed è ancora molto interessante per vari aspetti. Il primo aspetto che interessa molti studiosi è l'aspetto storico-artistico, perché attraverso le carte processuali è possibile ricostruire la vita artistica e la personalità della pittrice. Ricordiamo che in quegli anni Elisabetta Sirani era il pennello migliore della città di Bologna. La morte di Elisabetta fu un evento molto importante per la città di Bologna. La solennità del funerale che fu fatto di Elisabetta e le poesie che furono composte in onore per la sua morte fanno percepire un senso di colpa che la città e forse anche la famiglia stessa della pittrice aveva nei suoi confronti. Infatti Elisabetta, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, morì molto giovane, all'età di 27 anni, ma da quando era poco più che 17enne fino al momento della sua morte ebbe un'attività intensissima, per cui si può pensare anche che la famiglia e anche in qualche modo la città aver diso un senso di colpa per, possiamo dire, lo sfruttamento eccessivo del talento e della bravura di Elisabetta. Anche il fatto che fu, diciamo, sepolta nella cappella dei Guidotti vicino a Guidoreni stanno a significare un po' la continuità ideale della pittura fra Elisabetta Sirani e Guidoreni anche se ricordiamo che Elisabetta Sirani non fu un'allieva diretta di Guidoreni ma, diciamo, fu mediata la sua formazione dal padre che invece fu un allievo diretto del grande Guidoreni. Dicevo, fu sepolta lì non solo quindi per attribuire la sua continuità pittorica ma anche come un risarcimento, diciamo, morale per aver dato tanto alla città con la sua arte, tanto alla città e tanto alla famiglia. Dalle carte processuali abbiamo un racconto abbastanza esatto e meticoloso di quelli che furono gli ultimi giorni di vita della pittrice ma non solo gli ultimi giorni di vita, anche le abitudini della famiglia. Sappiamo che la famiglia Sirani viveva in via Urbana 7 probabilmente, forse non è nata lì Elisabetta però quella la si ritiene la sua casa natale e infatti c'è una lapide che la ricorda. Elisabetta era, come abbiamo già detto, figlia di Giovanni Andrea Sirani, pittore e di Margherita Massini. Viveva con i genitori, aveva due sorelle, Anna e Barbara che poi furono avviate dalla stessa Elisabetta alla pittura e un fratello minore. In casa viveva anche una zia paterna, la zia Giacoma e lavorava una certa Lucia Tolomelli che era una ragazzotta di provincia, così viene definita nel processo e una che era di vita a lavori domestici a ricevere gli ospiti quando arrivavano in casa Sirani e un'altra donna, Anna Maria Donini che in realtà era chiamata per fare dei lavori occasionali e spesso per consegnare i quadri che Elisabetta Sirani finiva ed erano da portare, da consegnare al committente. Poi compaiono altri personaggi della vita, diciamo, familiare di Elisabetta personaggi che facevano parte del mondo artigianale come pescivendoli, farmacisti, sarti, falegnami abbiamo la testimonianza del falegname che faceva i telai per i quadri di Elisabetta. Elisabetta aveva subito manifestato un talento naturale per la pittura e il padre, al primo manifestarsi di questo talento della figlia era stato un po' ritroso ad avviarla alla pittura aveva spinto per secondare questo istinto naturale di questa dote naturale di Elisabetta il conte Cesare Malvasia che era un amico di famiglia ma importantissimo perché ha scritto la vita dei pittori bolognesi fra cui appunto quella di Elisabetta Sirani fu proprio Malvasia che convince il padre ad assecondare questo talento naturale della figlia che allora fin da bambina cominciò ad avere accesso al laboratorio paterno laboratorio paterno in cui erano stati raccolti alla morte di Guidoreni anche opere appunto di Guidoreni e oltre a questo talento naturale Elisabetta crescendo manifesta un grande interesse per la lettura legge testi di tutti i tipi testi biblici libri d'arte di storia sacre scritture che saranno diventeranno poi le fonti per i suoi quadri verso i 17 anni il padre di Elisabetta Giovanni Andrea Sirani si ammala gli atti dicono di podagra di gotta di artrite possiamo dire quindi non riesce più a muovere gli arti addirittura è inchiodato così viene raccontato nel processo a letto e allora Elisabetta Sirani si trova a finire le opere del padre e a cominciare a dipingere e a fare quadri lei stessa all'inizio Elisabetta fa fatica ad avere delle grandi commissioni al contrario dell'Alvinia Fontana che molto tempo prima invece era riuscita ad avere diciamo commissioni che solitamente erano affidati a mano maschili era riuscita ad avere tramite l'aiuto del padre invece Elisabetta Sirani fa fatica ad avere grosse commissioni il primo quadro che la fa conoscere la città di Bologna è il quadro che ancora adesso è nella chiesa di San Girolamo della Certosa ed è un quadro di grandi dimensioni quindi Elisabetta dimostra al padre ma soprattutto alla città che è in grado di affrontare quadri di grandi dimensioni e soggetti che solitamente venivano affidati a pittori uomini con le palle d'altare insomma con questo quadro Elisabetta segna il debutto il suo debutto e la sua entrata in scena nella città di Bologna da quel momento diciamo l'attività di Elisabetta si svolge su due piani da un lato committenze di personaggi importanti che la andavano a trovare a casa e la vedevano proprio mentre dipingeva Elisabetta non aveva il timore di farsi vedere all'opera forse perché molti sospettavano che nei suoi quadri ci fosse la mano del padre lei proprio per questo si esibiva in pubblico poi l'altro filone della sua attività erano quadretti quadretti che servivano per pagare il pescivendolo, il farmacista le questioni di tutti i giorni a questo punto è evidente che Elisabetta diventa il sostegno della famiglia Sirani il padre è praticamente immobilizzato Elisabetta dipinge e dipinge in continuazione nel catalogo che lei stessa ha lasciato e che poi fu pubblicato da Malvasia nella Felsina Pittrice ha nota nel corso di dieci anni circa 200 quadri e questi sono solo i quadri che sembra siano stati pagati o commissionati al padre per lei per fargli fare di Elisabetta quindi immaginate dai 17 ai 27 anni che attività ha avuto Elisabetta sappiamo che era una ragazza così ce la descrivono di buona salute di aspetto florido quando verso il 1665 nell'agosto comincia a star poco bene Ilisabetta dipinge